musica 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 simbolo veloce perchè stiamo morendo e butto vado su D lol è il mio Mi do cavabers Confine del Caspio Eh? Un gioco di parole? Confine del Caspio Eh? No eh Ma sto guardando intorno ma non vedo la strada Infatti non c'è la strada lo faccio Ok Hai lasciato l'area di ingaggio E qui non servia niente ancora la combattia A forza Ascolta fai così scendi Dove vai oh Il trucco di ricare attacca non hai con uno Resta una manciata di sezione Li controlliamo quasi tutti Eeeh vabbè tanto non ti piaceva la jippa hai detto no? L'ho capito ma dov'è? Che cazzo ha fatto 800 metri Eccola No no perché esplode No gli hai attaccato una bomba No E perché esplode No L'ho capito ma dov'è ? No Non Grazie a tutti.